Il primo è stato di avvertimento, il secondo è per te. Blackout, vite sospese è un misteri drama ambientato in alta quota che mescola scenari mozzafiato, suspense, sentimenti e umanità. I protagonisti sono i clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanò in Trentino. È la vigilia di Natale, il distacco di un'imponente slavina isola la valle impedendo i soccorsi. È questo il filo conduttore della fiction diretta da Riccardo Donna che vede il protagonista Alessandro Preziosi. La sua originalità è quella di raccontare l'impotenza dell'essere umano rispetto non tanto al mistero della vita quanto alla inequivocabile fine che la natura sta facendo sotto le nostre mani. È un grande cataclisma. Io poiché misteri drama lo definirei un disaster movie, cioè una serie non disastrosa ma una serie che parla di un grande disastro che spinge le persone ad avere una seconda possibilità. Ed è interessante questa cosa che sotto la violenza della natura all'essere umano, come succede in questa serie, si è data una seconda possibilità, cioè una seconda chance di essere migliori. Una serie tv in quattro serate in prima visione sul Rai 1 dal 23 gennaio. Insieme ad Alessandro Preziosi anche l'attrice tedesca Enrique Schmidt, Marco Rossetti e Aurora Ruffino. È stato molto bello, è stata una bella sfida perché comunque il freddo era la cosa che più, almeno è stata difficile per me, gestire il freddo per tante ore, però a parte quello andavamo sul set in motoslitta, veramente. Cosa c'è di più bello di andare? Sembrava irreale, è stato un sogno e non vedo l'ora di poter tornare. Speriamo a fare la seconda serie.